Abbiamo un sacco di nuovissime ricompense gratis disponibili per i tuoi giocatori ora su Fortnite Tra le quali anche alcune skin che possiamo sbloccare in maniera completamente gratuita Per iniziare con il video, se anche ti vuoi tenere un regalo da partimi su Fortnite Inserisci il codice di supporto e creatore leotech, mandami la foto su Instagram Non vi tendrò a ripostare, ma detto questo vi lascio al video Allora ragazzi, iniziamo sul video parlando della nuovissima collaborazione che sta a programmare su Fortnite Questa collaborazione ha come protagonista Fortnite X Attacco dei Giganti Perché non sapete cosa è Attacco dei Giganti? È una serie tv anime davvero molto molto famosa Comunque ragazzi, come forse ben saprete, ormai ragazzi si sta spopolando La poca ha creato una nuovissima stagione E appunto, a quanto pare, arriverà prossimamente qui su Fortnite Quando si intende per questo prossimamente, abbiamo subito già un sacco di informazioni eccetera Perché capendo qua, ragazzi, questa qua sarà la skin con il relativo Ovviamente ragazzi, sono dei concept con un emote, quell'emote integrata ragazzi Questo come il nostro relativo con la chiave, il braccio ghiacciato come piccone E infine ragazzi, quella schermata di caricamento dell'elettro che non sarebbe nemmeno troppo male Diciamo che è praticamente stata confermata l'arrivo di questa skin Nel passimo pass battaglia di Fortnite, solo che quello che avete visto è solo un concept Quindi state tranquilli, avremo davvero un sacco di coppia da aspettarci Per l'arrivo della prossima season che tra l'altro, come forse ben saprete Uscirà esattamente domani rispetto a quando starete vedendo questo video Infatti questo qua, ragazzi, è l'ultimo video di questa season di Fortnite Perché la prossima sarà davvero una cosa fantastica E abbiamo solo pochissimo tempo Quindi ragazzi, mi raccomando, andate immediatamente a vedere tutti gli altri video sulla season Perché saranno davvero qualcosa di fantastico Profiterando che, visto che mancano meno di 24 ore, possono essere molto utili per capire meglio Cosa dovremo aspettarci con il prossimo aggiornamento Inoltre, ragazzi, la skin di Eren Jaeger, ovvero la skin del protagonista di Atacco di Gigante O meglio, dovrei dire, uno dei protagonisti Sembrerebbe che quando arrivi su Fortnite abbia un ruolo più articolare Ovvero dovrebbe essere la skin segreta della season di Fortnite Come sapete, in questo caso la skin segreta di questa season era la skin Geralt di Rivia Che tra l'altro, solo me l'hanno un pochino scredita Perché l'abbiamo visto arrivare poco dopo l'arrivo della collaborazione tra Fortnite e X Creed E secondo me, ragazzi, quindi c'erano un po' C'erano dei momenti migliori per far rilasciare queste skin Che ragazzi, alla fine, l'hype è stato un pochino mangiato dalla collaborazione con Creed Che anche se nonostante me non sia stato un granché Ragazzi, nonostante ci ha appunto apportato la skin di me, appunto, ragazzi In maniera comodamente gratuita E come se non bastasse, anche se stiamo qua nella season di incarichi Possiamo trovare gli incarichi Creed Che ci permettono appunto di ottenere questo bellissimo Questo bellissimo spray, come volete E gli incarichi sono anche molto semplici Per esempio, cattura un pollo, eccetera Quindi ragazzi, questi danni, queste sfide vi consiglio di farle Per il semplice fatto che vi serviranno per livellare velocemente questo post-battaglia Allora ragazzi, questi qua sono gli incarichi Cypher Che tra poco se ne andranno a questo Fortnite Come vedete, questo spray qua della lucertola, ragazzi È molto, molto importante Io questo per il semplice fatto che, ragazzi, questa skin qua È quella skin della lucertola in versione grande E appunto, come forse ben saprete È confermato che sarà una skin del post-battaglia di Fortnite Quindi ragazzi, questa skin davvero ci porterà un sacco di cose Perché io, sinceramente, non vedo l'ora Mi sembra davvero una skin, a mio parere, fantastica, ragazzi Però affidatevi di me Abbiamo davvero molte altre cose da guardare Ben più interessanti di questa, ragazzi Quindi mi raccomando fate uno screenshot Salvatela perché così domani mattina Potrete flexarla a tutti i vostri amici Perché saprete già quali sarà la skin dell'anteprima Testa cosa vale per questa alternativa della skin Drift Che a me, sinceramente, ricorda molto la versione originale Però ragazzi, nonostante ciò E appunto, ragazzi, comunque una nuovissima skin che arriverà con il post-battaglia Che sarebbe davvero molto molto figa come cosa La stessa cosa vale per quest'altro skin qua dietro Che, sinceramente, ragazzi, non mi piace Proprio per niente, ok Non ricordo troppo le skin dell'ascorto season Però sarà appunto, ragazzi, fantastica Perché arriverà nel post-battaglia della prossima season Sarà una delle skin principali Sono addirittura la skin che dovremmo ottenere con il livello 1 E che mi sembra molto particolare, ragazzi Però appunto, diciamo che la skin importante della season Ovvero quella di Areia Negra L'abbiamo già trapelata Per il semplice fatto, ragazzi Che sarà la skin di segretà Quindi la skin collaborazione sarà solamente quella E non avremo in teoria altre skin collaborazioni Legate al post-battaglia Almeno da quello che si pensa per ora Anche perché molti di voi in questo momento Starete pensando ai Griffin Però mi duele affermarvi Che purtroppo, ragazzi I Griffin non arriveranno su Fortnite O meglio, forse arriveranno Ma di sicuro non in questa season, ragazzi Quindi è ufficiale Che non saranno le post-battaglie della prossima season Sinceramente mi piace molto Perché sono un grande fan di Griffin E a vedere questo forum Mi sarebbe davvero piaciuto In un modo assoluto Tra l'altro questa qua, ragazzi Altra skin che a me sicuramente Piace molto di più rispetto alle altre Forse sono i miei gusti strani Perché vedo che hai altri su Twitter Non piace davvero per niente Però mi sembra davvero molto, molto interessante Come skin Anche considerando, ragazzi Che avendo la pass-battaglia Sarà molto, molto carino, ragazzi Utilizzare una skin del genere Perché non so voi Ma ultimamente mi sembra che Fortnite Si stia altamente impegnando A riciclare le skin Però avere una skin del genere Quindi fortunatamente Non riciclata Davvero, ragazzi Mi rincuora tanto Perché mi fa tornare La fiducia in questi sviluppatori Che negli ultimi anni e mezzo Non hanno fatto altro Che dropparci Skin riciclate Forse a livello di Covid Forse perché non avevano voglia Non lo sapremmo mai Fatto stare, ragazzi Che quest'anno Fortnite Ha fatto altamente schifo Quindi, secondo me Si iniziano a portare le skin Un pochino come questa Ovvero, molto più diverse Molto più originali Secondo me potrebbe essere Quello che porterà Tutti i giocatori di Fortnite A tornare a giocarci Anche perché, come sapete Ormai Fortnite Circa di un anno e mezzo Ha perso davvero Un sacco di giocatori Colpa degli eventi Molto realmente Perché abbiamo visto eventi, ragazzi Altamente inguardabili A partire dalla creativa del punto zero Che non ha fatto hype Nemmeno, ragazzi Probabilmente a chi l'ha creata Era contento di realizzare Quell'evento Perché davvero, ragazzi Quell'evento Era una cosa inguardabile Esageratamente lungo A livello di durata dell'evento E davvero anche brutta A livello di storyline Perché non c'era Ascun argomento Diciamo, ragazzi Che volteva quindi Andarci a far tornare La voglia di giocare a Fortnite Però, nonostante ciò Questa season purtroppo Non avremo evento Direi che è una cosa Che ormai Si dava quasi per scontata, ragazzi Però, appunto Mi face molto Perché poteva essere Un modo per Fortnite Per rifarsi Dopo quest'ultima season Molto, molto brutta Che hanno dovuto passare Anche perché capitolo 4 Ha portato l'hype Che portano i miei video Quindi, letteralmente Zero, ragazzi Quindi, diciamo Fortnite Poteva fare roba Molto più particolare Per quanto mi riguarda Dall'aspetto di youtuber Secondo me Comunque in America Tutti i giocatori Hanno un approccio Differente con Fortnite O meglio, Fortnite Non viene visto soltanto Come un vero gioco Perché Qua i tre anni Lo vediamo un pochino Come un gioco spazzatura Ovvero appena c'è una season Che non ci piace E chiudiamo Mentre gli americani Hanno comunque un approccio Molto più Quasi amoroso Con Fortnite Nel senso Che ad esempio Seguono molto di più La storyline Rispetto a noi italiani Però questo non dovrei essere Io dirvelo Quindi ecco a voi un codice 54321 Per averlo non privato Scrivimi su Instagram E mandi una foto Del codice creatore Tra l'altro, ragazzi Forse una delle poche cose Che tornerà a portare Hype su Fortnite Almeno per quello Che riguarderà La prima settimana Dall'uscita della season È tutta la critica Vada.0 Della quali farò davvero Un sacco di tutorial Perché non vedo l'ora Che esca Finalmente Unreal Engine 5 Era già aperta Al pubblico Però questa volta La vedremo integrata Su Fortnite Una cosa che Incentiverà Molte persone A necessitare Ad avvicinarsi All'ambito 3D Magari anche Ad acquistare un PC Perché come Porta potete Ben sappiamo Levelization Fanno ultimamente Leggermente schifo Comunque ragazzi Io continuo a ricordare Sempre questo tweet Qua di FamilyKai Perché mi piace davvero Un botto Che i griffi Non sono arrivati Qui su Fortnite Questi qua Sono alcuni template Sempre della Creativa 2.0 Ragazzi Di come saranno Le mappe In teoria Molte sono simile A quelle che possiamo Già preimpostare ora Solo che Come vedete Sono Magari sono molte Di più Hanno più varietà E le potremo Modellare A nostro pacimento Confideranno Che il programma È molto simile A Blender E da quello che ho capito Dovrebbe anche avere La possibilità Di introdurre I oggetti OBJ FBX GLT E queste cose qua Ragazzi Quindi in teoria Se voi facciamo Oppure se io Comunque Chiunque fa Un render Su Blender Quindi poi Un programma 3D Ma voglio usare anche Fatto il render Di più Non lo so Mettete un po' Su una skin Oppure create Un sasso Un oggetto A vostro pacimento Poi in teoria Dovete essere in grado Dopo un'approvazione Di Epic Perché Epic Games Ovviamente Non vi fa rilasciare Tutto quello che volete Nelle vostre mappe Però dopo che avranno Fatto In Twitter Ragazzi Da quello che ho capito Una visita O meglio Dovrei dire Un controllo accurato Di cosa stai aggiungendo Alla area Alla engine 5 Te lo fa in action Te lo puoi mettere Nella creativa E se è successo Anche gli altri giocatori Possono usufruire Del tuo oggetto Da inscrivere Nelle lucrative E forse Alcuni saranno Anche a pagamento Quindi sarà anche Il modo per alcuni Di fare dei soldi Creando oggetti 3D E poi vendendoli Su Unreal Engine 5 Il video potete capitare qua Spero ci vediamo Alla prossima Domani Siamo in live Alla giornalmente Ragazzi Grazie a tutti Ciao Ciao